ma questa era la casa che avevamo trovato noi ma non c'è stato il campo da corte si chiamava villa d'orto vedi era questa era una villa d'orto è una villa d'orto è una villa d'orto passiamo a terra dovemo stare no, 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 no non c'è stato il paese non c'è stato il paese sbagliere cari ho vedi una cosa che l'ho ripresita non vediamo no, 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 no non c'è stato il paese La prima volta, stava a fiascita, stava durata per il treno Vabbè, la caccia a cacarare, per diminti che aveva manovra Per diminti che è stato amato brazzato sempre Te dico una cosa, stava durata Bravo! Bravo! Mandì! Stemming Vi Vallahi Cia Siamo arrivati a Tenerife con 30 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto quando sono passate le 9 da 30 minuti, ora locale vi preghiamo di rimanere seduti con la cintura di cittura di cittura di mangiata se non mancherà la coppia tra l'interno della forza del sosta insegnate le cinture, sarà stato spento, vi preghiamo di fare attenzione nell'aprire le cappelle di computer e dispositivi elettronici di grandi dimensioni devono rimanere spenti e correttamente i posti potete adesso utilizzare telefoni di cercare e tablet vi ricordiamo che in tutta l'area aeroportuale è severamente vietato a fumare infine da parte di Rai Enzo e soprattutto da parte di tutti qui a bordo vi ringraziamo ancora una volta per aver scelto di volare con noi oggi speriamo di rivedervi presto a bordo di uno dei nostri voli vi auguriamo una buona giornata e una buona vacanza qui nell'isola di Tenerife vogliamo fare un augurio speciale alla nostra passeggera Franca che in questi giorni compierà i primi suoi 40 anni Franca, 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 Franca buona vacanza Francuccia mia Franca, Franca, Franca Franca, Franca Franca, 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 Franca Ecco, ragazzi, Gabriele senza tagliare i capelli ha cambiato caffè, va?